Vediamo cosa sanno fare questi mercenari. Lancio! Vai arrivando! No! Ho sentito quel tuo braccio? Oh, no! Non so, per il tuo braccio! Ed è? Grazie davvero. Occhio! Non eri così in gamba. Non eri così in gamba. Non eri così in gamba. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì.